Siete pronti per la serie evento? Grazie Bonfabio che è molto gentile Grazie, grazie Bonfabio Molto molto gentile Intanto vi faccio vedere tutte le situazioni Qua a spettin'atma Naturalmente è tutto sballato come al solito Ma figurati, mai Una piccola gioia, mai La serie evento E' del momento, Korn Grazie Vettor Grazie Vettor Grazie, grazie Vettorino Buonasera, buonasera Buonasera Radiation, grazie Faccio la mia mucica La serie evento è solo For The King No, no, la serie evento è Octodead For The King non è la serie Sì Schitarra con il tuo Come? Sono secco Come sei secco, sei lì sin Parlo da di parte subito Marco Sì, sì Marco E non posso, se carica Che fluflu Cos'hai sentito? Eccoci qua Continuiamo la partita Buonasera Buonasera Quindi si parte subito così Marco Eh sì, io farei Bravo Non l'avevi superato sto pezzo? Io mi ricordo di sì Però Ah no, infatti avevo Allora Combina le spore Allora Combina le spore Buonasera Buonasera Ma cosa saluti con quella mano di merda? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Ok Allora Prendiamo questo No Questo Poi Lo portiamo da questa parte Immagino Lo mettiamo qui No Sì Eh No Non credo funzioni così Allora Lì, lì c'è uno zoom Devo portare E fare canestro Nella situazione Può essere Marco, secondo me sei pazzo Comunque No, no Aspetta, aspetta Ma c'è dietro la spiegazione Lei stai facendo giusto Adesso Aspetta che spingo Lo porto qui Ok Un po' di più Non capisco lo scopo Non capisco più che altro Allora adesso Ti faccio vedere Cosa devi fare? Ah, devo prendere questo Forse Credo Ma chi lo sa Tu lo sai Ma qual è lo scopo? Eh Moro Tagli per favore Allora Vedi? Basta fare il canestro E figura Allora Andiamo a prenderla Aspetta Qui Eh, la riportiamo La riportiamo da questa parte Tra l'altro dovete sapere amici Che io e Moro Oggi abbiamo fatto un piccolo sonno Purtroppo Oh Ho fatto proprio Una bella appendica Abbiamo fatto un bel sonno L'onere di 6 set Sulla sedia Anziani Sulla sedia Amici Forse non devo fare questo Ehm Sto a guardare Death Note Ehm Ti stai guardando Death Note? Non mi sta piacendo Particolarmente E spero che sia solo l'inizio Però Forse mi sono confuso Ma Proviamo Non l'avevi fatto l'altro Non l'avevi fatto Non l'avevi fatto l'altro No, questo non l'avevo fatto L'altra volta Spero che migliori più avanti Perché Giuro che Non Ci sono più Mi sta garbando Tantissimo Ah ok Vedi Sì No Dovevi andare Ma ci sono Infatti Eh ma ci credo Death Note è bellissimo Cioè lo dicono tutti Non è che Forse spingere un po' Qui indietro magari Ok Ok Perfetto Forse c'è entrare l'ultimo Devo c'entrare l'ultimo Mi sa Allora è meglio fare prima l'ultimo No forse rimbalzano sopra No Aspetta Proviamo a tenere Eh perché sono la Già la Undicesima puntata Lo tengo qua No Marco Devi Spostarlo Mentre la palla va Aspetta Dici Ma è impossibile Oh La ralentura di Jojo Non mi fa veramente Caccare da guardare Cioè non mi piacciono proprio i disegni Che a me fa cacare Jojo Oh dai E poi non Non mi pare sia proprio corto Quindi non Ma che è successo Aspetta Michael Jordan Mi serve quella verde Di nuovo Qui Michael Jordan Niente non ce l'ho fatta Riproviamo Eh Rimbalza Niente Questa me la Me la sento Me la sento No Aspetta Come ho fatto prima Mi sposto un attimo Non so Vector Che te sei gay Per Jojo Però Porca miseria Purtroppo Hai dei gusti Di farlo Ok Michael Jordan Dovrebbe funzionare Ma deve installare Il pistolino Non è salito Eh c'è la blu e la verde Tecnicamente Le ho combinate Non è salita Non è salita Non è salita Non è salita Boom Aspetta Allora Questa qui Oh L'ho buttata Ok Posto Gioca All'incrino Prima la blu Marco Marco Ok Allora Di qua Di qua Di qua Di qua Buongiorno Salve Si bene Posso passare Eventualmente Non sarà questo L'inclino quiz Sarà dove ti inclini Dici moro No Andate come faccio Una camminata Sarà questo Sarà questo Il disegno è uguale Allora Aspetta Stai passare Bambino Di Merkel Le scale Sono così Difficili Ok Piano 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 Ok Ok Oh Miseria Marco Che fatica Ok Ok Il bambino Ok Che missione c'è Possiamo toglierlo Questo Grazie E che Andato via Il bambino E che facile E che bambino è andato via Ciao Finch Non è che devo riportare Questa ci sono Sì ci sono Andare avanti Su Draft Souls Allora Prendiamo Questo qua Questo qui E lo riportiamo Sopra Magari C'ha bisogno Di stare qua Dentro Questo Aspetta Quello L'hai fatto Oh no 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 Prendilo Che si stacca In effetti scusa Se segui il bambino Infatti Secondo me va via E se è scomparso il gioco vuol dire che è finito E se il bambino è andato via è inutile che fai i giochi Non ti sta guardando il bambino Scusi si è nel buco Fatica Ok c'è un pozzo c'è un pozzo c'è un pozzo Usa l'Ordor per salvare la kelfe da la rincona estincione! Lo provate a proteggere la kelfe, padre! Sperate l'Ordor! Bu! Sperate gli uomini di rinconi! Bu! E! 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 Gigi! L'Undra! Eeeeeeeeee... Non è oltre a quella pure! Non è finita, non è finita! Storia, il bosco! No, non è il castorotter... Beh, sembra che siamo quasi arrivati! È l'ultrante! No, non si fa! Non si fa, bambino, non si fa! Grazie Giordi, è molto gentile! Ti tira ai marroni! Scusa! Ma è tuo figlio, ormai l'educato di merda! Ok, mettiamoci in pista, eh! Marco Madia! Che rischio che hai fatto! Mi usati cacchia! Aspetta, allora! Dove sono? Dove sono finito? Allora, qui! Dai! Sì, 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 questo posto è terribile! Buonasera! Allora! Eh? Eh? Onishi! Ragazzi, me ne prendo due mesi! Ben tornato! Come sei stato però abbonciato dell'esame, dai! Ma si, ma chi se ne fa, Onishi? Allora, facciamo anche un po' come... Mi spiace! Se ne fa un altro, non è che, c'è da preoccuparsi! Ho fatto l'altro ieri il talk show! Che esperienze scolastiche! Ok! Vedi che siamo venuti su tutti i... Eh, immagino, Onishi! Comunque... Ma che miseria! Che fatica! Buonasera, signorina! Ma che onore toccarlo Eddi Ma che signorina Disgraziato Buonanotte, niente, qua c'è un piccolo problema Non ci sono le ringhie Non ci sono le ringhie? Ti voglio tirare un pugno Aspetta, difficilissimo Cosa fai? Cosa tocchi la signora? E' fastidio per muoverti E' il mouse, devo tirarlo avanti e indietro ragazzi Unito Tipo clic destro, clic sinistro Sì, esatto Esattamente Usa, chi sarà mai? Andiamo a vedere Grazie Grazie rigurgito Non so Non è rigurgito Ah no, non è rigurgito E' tipo, intrigante Facciamo la moda Quello Marco Più dolcemente dobbiamo passare Sì, tranquillo Ma che deficiente di bambino Figlio del cacchio Sono io il cacchio Bambino stupido Cretino Si lascia perdere Lascia perdere Peggio Proprio un gioco da ped Avanziamo, avanziamo Ho un gruppone nello stomaco Eh ma io come fai? Allora aspetta, togliamo questa modalità Portiamoci Avanti così Molto bene Oh Oh Questo è lui Oh Ehi, ehi Che succede? Fermi Fermi Fermi, fermi Fermi, fermi Cristian de Sica Non è Cristian de Sica Marco, ti giuro che se cadi qui E ti resetti il gioco No Marco, allora appigliati sempre con qualcosa con le mani Così non piaci Ah 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 Ma questo è veramente uno stronzo Non è possibile amici, è difficilissimo Ma tu con le mani non puoi attaccarti ovunque Amici ho fatto una provata Fermi Non è qualcosa E' vero? E' vero? E' vero? Non l'ho fare Non l'ho fare Non l'ho fare Non l'ho fare Allora, molto bene Fermi Fermi fermi! gliel'ho buttata ma è colpa mia fermi! aaah! che miseria porca guarda che secondo me per davvero è più la fatica della gente che guarda non cadere dall'altra parte devo mi tirare i palloni bambino della fama eh e qui? come si fa qui? parco sei stato veramente bravissimo come perdonami come si fa? devi andare con la carrupola eh no l'hai già fatto quello aaah! ermi! ce l'ho fatta! mamma mia ragazzi fermi ci spezza tutto dentro i miei piedi ma c'era un buco c'è che miseria porca un salto acrobatico non va il piede è molle ok oh oh mio dio oh mio dio aspetta che succede? il rumore più dominante di questo level ma stai scherzando? ma stai scherzando? ma stai scherzando? grazie a te grazie 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 ho avuto un po' di cose ho avuto un po' di cose credi che c'è una scienza? c'è una scienza i piedi rotti ok qua adagio adagio piccolino adagio piccola bestia mio figlio è veramente una fava figlio di satan vabbè che si sei figlio tuo figurati come cazzo può essere uscito quindi cerca Stacy e Scarlett ma Johanson? secondo me sono su guarda la butto lì io mi sento che sono sopra piano piano saliamo vedi in questa maniera molto elegante distesa vedi ma sicuramente solo qua ahia tutto bene ebbene ma porca vacca è in proie soli c'ha scritto ah l'ho rotta l'ho rotta l'ho rotta cosa diamine ah vabbè ok sarà qui? guarda che perché dovevano essere della caffetteria dentro posso parlare? buongiorno per una volta siamo senza bambini quindi dovremmo davvero parlare mi lascia? mi chiedo come sarà la nostra vita quando i bambini cresceranno e ce ne andranno di casa eh come vuoi che ma è già stato un entai se ci sono i bambini ma ritornerà adesso porta 7 premi a scarlett beh allora qua dobbiamo giocare immagino ok oh no ha detto dobbiamo parlare sembra che i bambini riproviamo 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 un'altra volta ah vuole tutti i dettagli eh beh oh sì forse un giocatore di basket professionista vediamo di fare le cose tutto bene tutto bene la miseria un attimo eh che cazzo di gioco è che devi lanciare i pesci a dei troro ma che ne sai della vita tu che fatica che mi fai aspetta eh michael ter sta di cacchio michael di prenderla rincorsa 7-8 volte allora ci sono ci sono ci sono sono tornata eh eh trovo grazie eh eh trovo lì eh vai carl johnson carl in tony town eh dai non ci arriva lì ragazzi ma non ci arriva ho finito lo spazio per muovere il mouse ma è vero sono sono vivi i pesci certo ma bisogna provare un gancho è jason kid niente karim abduljabar che è questo dove lo preso? devi fare un palombetta secondo me no c'è una potenza qui aspetta oh oh vieni qua si una serata purtroppo finisce qui oh no vieni finisce qua eh oh dai ne mancherà solo due marco madia hyper pizzeria no che liscio adesso non lo prenderai mai quello lì oh buono con che braccio tra l'altro lo sto facendo oh lo riprendo scusate c'ho la tecnica qui eh no no c'è veramente il migliore eh grazie da dietro la testa lo stai lanciando sei bravissimo eh stai facendo il gancho sono pao gasol paolo gasolio e beh più o meno vuol dire come vin diesel tipo si dovrebbe no ci vuole più vemenza dove l'ho tirato? va bene ah l'ho ufficiale poi ha dato un consiglio ma l'ho preso ragazzi l'ho preso che succede? ah nessuno ti vieta di entrare nelle macchinette con tutto il corpo no bisogna farlo bene l'esercizio ragazzi non è che si fa ho capito marco ho le palle io eh eh lo so anche io ce l'ho ma ti è arrivato un pesce ma scusa potevi prendere direttamente dal ma devo prenderlo giustamente eccolo qua molto per terra mi porta miseria amore tieni amore è per te amore è per è per cos'è che viene? ha una fonda? una fonda? devo tirarlo? siamo disgraziati ecco beh ci penseremo aspetta allora vediamo se riusciamo a me devi tirare fortissimo per poi riprimere altrettanto come si fa? l'ho fatto! forse? facissimo forse? non so l'ho fatto perchè no gli illuminati due ne ha illuminato c'è tre allora il movimento della masturbazione moro eeeh non so ricordiamo che uno uno dei tentacoli di un polpo è il pene quindi che miseria ragazzo per piano prendito e allontanati camminando ok non lo facciamo ragazze sono tornata grazie alle minghi grazie Ale oh l'ho fatto ah 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 allora ok eccolo qua eccolo qua che lunghezza mi sono dilattato questo è fantastico chiaro tesoro questo è per te però cretina eh ma poi quanti cosa che relazione di merda questa che mi 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 ci vuole pochino penso qualche minuto adesso cosa devi fare a raccoglierli tutti però Marco entrava dentro la macchinetta qui dal buco sotto non dai ti ha preso che bravo eh eh ma non è spacco tutto ragazzi sentemi immediatamente i premi ho fatto il lavoro che che mi 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 di quelli, li porti direttamente quello lì alla... Eh, infatti, è quello il premio, sì. Prezzi, prezzi. Grazie, prezzi. Grazie. Aspetta. Ma, ma, scusa, prendilo, prendilo dal quadratino, tanto uno riesci a tirarlo fuori. Non venivano fuori, eh? No. E non riuscivo. Prendilo con le mani, sì, dicono, basta solo uno. Ok. Buonasera. Ok. Scusa. Tieni. Ma lei è veramente di lanciaterra? Ok. Che è questo? Che è veramente una beffana, tua moglie, eh? Non ti permettere di insultare la mia amata. Hai tirato una sberle. Come si fa? Scusate, ma... Sono pazzo io o...? Eh, ma sono molle, non viene su? Marco, finché ti c'incastri tutto con i pene... Hai visto, fai... Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Amici, non viene via! Aspetta. Eh, sì. Aspetta, sono un po' inciappola. Marco, perché lo stai tirando dalla schiena? Ti avrò da davanti! Polo, tu pensi sia una situazione facile, quella che sto spostando? Basta che ti giri, tu mi necchi... Eh, cosa prende? Fa la ricotta, questa cos'è? Che cazzo di posizione! Eh, amici, purtroppo è così, non è che l'ho fatto io. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Ok. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. E' così felice che lei potrebbe sentirti. Vedi, lei pensa che ti amico i dolfini. Ma che lavori sono? Ma cosa vuol dire? Ma, scusami. Ragazzi, c'è qualcosa che non va. Marco, non sei buono a giocare a basket. Cosa c'è che vai? Marco, questo qua c'è un'esperimento. Marco, entra dentro, per cortesia. È un'esperimento. Non è buono a giocare a basket. e poi allungarti come michael johnner che vale veramente sul cadesto non credo si tratta dentro e appoggiarle su va bene no però gli basta già solo il bra il bra il tentacolo può arrivare gli ho preso la palla con lì sto pone dai di che imbemutombo fortissimo ragazzi ho capito la tecnica guarda quello lì non sa cosa fare non sa più la palla dagli una marca dagli una palla che canestro fortissimo ma dagli una palla a lui si che signore puverino spero che il vaso deve guardare questo ma gliela tiro e scompare dai devo arrivare ci dove è andato a prenderlo tagli il titone aspetta è l'ultimo canestro ma era perfetto no questo no la caduta scusate oh 5 ma quanti ne devo fare non lo so vabbè vai dagli il premio che hai già preso scusa attualmente non ti dà più premi perchè ne hai già presi 4 no mi sa che no no infatti grazie buonasera scusami tieni ah io non lo sei da fare questo te l'ho già dato scusami un attimo eh buonasera ciao amore e prendi sto coso e prendi sto pesce mezz'ora guarda porta tre primi a scala ah devo portare altri tre allora ah erano ah quindi erano tutti no li faccio tutti non c'è problema non c'è problema non c'è problema finisci il basket ti manca un canestro non è vero mi sa che li sei resettato ah vabbè ne ricordo bello vabbè vabbè faccio vabbè 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 aspetta 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 devo muovermi di più ne fanno 4 no ok l'ho bloccato un po' è risettato tutto ho fatto la testa grazie Dusan Rakovic grazie Dusan ok ok questo l'hai fatto questo lo tengo vedere mancano due come è finito? l'ho lanciato lì? ok in realtà il basket quindi terpander manca uno su tieni qua andiamo a giocare a basket no vedi che non c'è risultato ok fai l'ultimo canestro perfetto ragazzi oh puoi giocare Loki su ghiaccio eccomi qua certo Rosha guarda ho fatto subito eccolo qui devo giocare con Mudimbi Loki su ghiaccio si si buonasera questo è tuo prendilo prendilo lo tiro dall'altra parte ma lì l'ha già dietro prega niente allora io lo do allora devi fare due giochi adesso quindi non pensi che puoi battere l'altro air hockey mad at his own game se lo hai sono un campione che è sto gioco ma così era facile togli immediatamente la mano da questo ok eccolo qua scusi eh scusi con permesso tieni qua babuina vabbè è rimasto lì il campione di percontare di air hockey è rimasto lì deluso si devi farne uno ancora o vai giù a prendere il coso di qui ho preso l'ho preso tieni qua babuina l'ha preso tanto cielo l'ha preso grazie Dusan allora blocca le perdite d'acqua dove mi sono perso qualcosa mi sono perso la caccia non ho visto tra te cabusi cabusi di qua forse non penso che i turtli possono davvero farlo ma quello appunto sia un gioco sentra niente e togli togli è nell'acquario devi andare andiamo in un acquario ci penso io scusami ho ammazzato un bambino ah guarda lì infatti c'è un buco vabbè ma chi se ne frega i bambini ce ne fanno altre dove deve entrare qua devi tappare il buco o devi tappare come entro là dentro non devi entrare dappi da fuori ma da fuori non so come lo tappi con i tentacoli bambina con un bambino porca miseria le blocco le blocco ma porca miseria grazie mille vale grazie per farmi ridere anche in questo brutto periodo ma porca vacca mi dispiace vale grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille ma come fai a tapparli ma sono altissimi marco ti devi sbrigare lo so lo so sono tutti intracciati come qui questi sono tims vero mi sta affondendo la nave corri no no aspetta tu non la fuga comunque tu puoi andare avanti no no aspetta ci sono quasi ci sono qua l'ho fatto lascia la sala giochi guarda ma porca vacca bambino ma hai inciso un bambino ma hai tirato un pugno a un bambino ma hai tirato un pugno fortissimo scusate volevo provare questo gioco vado via a ok non vogliamo raffreddare un bambino inerubi a qua ci siamo gestati mi sa si continua a girare a sinistra ma che poi è la parte opposta quando no 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 è una porta arrivavi dall'alto quindi può essere che siano anche sotto effettivamente un attimo eh ma che succede che ansia ragazzi che ansia che ansia allora andiamo al deep dark sea andiamo al deep dark sea meno male non c'è voglia di affrontare questa cosa corri corri off the dead che paura certamente chiamano l'ascensore certo buongiorno eccomi qua è via come un'anguilla che cacchio ragazzi tu sei ora entrerai l'oceano dico casa a molti strani e misteri creature certo certo guarda attenzione al mondo non voglio andare io non voglio andare la figlia satana quella perché ti riesci a vivere al cielo se ci lasciami qui, un po' di pick mi adorare per farmi vivere nel occhio voglio ! Mountedra, Mountedra, Mountedra Rimano il sindaco di un altro nello spesso di aver spesato non lo posso servire altrimenti quando mi fai medo mi provoce che sono un'altra cosa Come un cloudosaurus o... Perché? Perché non c'è nessuno qui? Dad! Se mi riuscirò qui... Mi riuscirò! È struttura di un occhio di... Un milione di foglie! Ti abbraccio! Ti abbraccio! Ti abbraccio! Tu prendi il pavimento da danza! Ah! Devi stare fermo su quel tastino! Vedo! È barbettibile Twitch questi giorni... Funziona di cazzi! Ma non è vero! Non si può fare! Ma siamo pazzi! Oh sì! E poi si riuscirà per essere grandi fischi! Certo? Wow! Ma mi ha detto che tu avevano venuto a danza... Ma non ho mai visto che hai avuto movimenti come questi! Parcomadia! Fermo! Sono veramente concentrato! Non suonare! Non suonare! Telefon! Zitti! Ma stai fermo! Cretino! Non posso chiudere! Scusa la miseria! Oh! Oh! Ma poi che cazzo è che mi chiamano a quest'ora? Ah! Ah! In desonio! In desonio! In desonio! Scusami! Ah! Chiama il telefono azzurro, eh! Ah! In desonio! Ah! In delle tue orecchie! Parca miserere, che legna che li indirettano! Sopra costisi le meduse! Prego! Steffi! Non posso dire! Based on andếca! Devi seguirmi! Vieni! Piano piano, tesoro, vieni! Qua! 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 Bravo! La papera! Non lo puoi indossare! Sembra un casco da palombaro La devi agitarla quando mi sa che sia spento Vieni Qua Ok Vieni Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non dobbiamo andare di qui Vieni qua Vieni qui Vieni qua Bravissima Non sarà di qui Il posto è qui Ma che paura Vieni qua Oh madonna santissima Qua qua vieni qui Alla cameriera Conoscere un uomo Non ricordo ora Cosa dice Vi seguo ormai da anni come past broadcaster E ogni tanto mi godo qualche live Quest'anno dato che ho amazon prime vi meritate la sub Grazie per quello che fate e continuate Mark tv b e moro culo Grazie Ma sei stato Incastrato Intanto La vacca mi si è Comunque Agitarò Eh ma c'è lei incastrata a me Non riesco Passagli sopra C'è lo stealth Ma come mi ho ridotto ragazzi Ma come Ma perché Ma scusami Non mi posso muovere E spostati Come mi muovo ragazzi Mi ha spaccato la merda Mi ha spaccato la merda Mi ha spaccato la merda Come ne esco da questa situazione Ma basta spegnerti tu Ma basta spegnerti tu Oh per favore Ah nooo Ma uccidi sta bandita di merda Veramente Oh Tesoro deficiente Ci sei? Vieni Maledettamente te Vieni Porca miseria Non è qua Ma qua c'è lo scienziato Ma qua c'è lo scienziato Porca miseria Porca miseria Porca miseria Porca miseria No 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 che stai No 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 That's the majestic hall of jellyfish Were you entranced? I bet you were Ehi, chiudere, chiudere vuoi? Oli! Fai funzionare le luci! Non poteva prenderla lei dal principio! Oh, aiuto! No, la prima volta che la colpisci ti conta la barra dello sgamo! Che si fa? Pai, penso che c'è qualcosa di davvero scambio qui. Si! Mi raccomando, tu che doppi la mamma mia, mi raccomando, devi essere un dito nel culo! Allora, se vuoi te lo metto anche! Così saprai proprio come... Ok, allora... Sai che io non ho idea di cosa sto facendo? E' uno, tre, due, ti penso che devi metterle in ordine. E come le faccio a passare? Ma sono dei faretti, credo. Oppure devi andare in maintenance... Eh si, devi andare in maintenance e accendere la luce. Pai... Stai zitta! Vertuccia! Oh, sono sicura di dove si va, Pai... Ma che situazione... Allora... Allora, ragioniamo un attimo... Prendi... 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 Cos'è? Che è? Vabbè... La cravatta... Vabbè... Ho trovato questi piccoli scherzi, ma non so quanto tempo ci saranno combattere la ditta! Qua, qua c'è la faccina, quella che c'è sotto, l'ho vista! Ora... Ora... Non l'ho messa la cravatta... Graziato... E non so come si fa, non ce l'ho più... La mamma non mi lascia giocare sull'elettrica! Prendi... Dovrei attaccare le spine... Negli appositi... Negli appositi qua... Ma io le spine non le posso prendere... Come? Ma non me le fa prendere... Ah no, sì, ecco! Allora... Questa... È sicuramente questa... La spina, bambini da casa... Prende sempre... Dalla testa e non dal capo! Grazie pigna! Poi... Questa qui è a... Tre cosi... Quindi la dobbiamo mettere... Da questa parte, credo... Prende proprio di sì... Ho sbagliato... Che fai cura di merda... Allora... Ehm... Ah... Ho capito dove va messa... Questa va messa qui... Ok... Poi... Quella rossa... Qui va messa... Facendova passare con un movimento... Vedete... Da questa parte... Eh... Che miseria... Qua... E poi... E poi... Finalmente... Questa... Mettiamo... In questo berzo, eh... Ok... Un po' strana... La mia posizione per infilarla... Ok... Abbiamo fatto! Che grovigli... Illumina una... La statua misteriosa... E poi... Adesso devi eliminarla... Adesso devi eliminarla... Questo è quello che vive nella mia posizione! Un attimo... Un attimo... Un attimo... Un attimo... Ok... Ok... Un attimo... Che ero... Un attimo... Che ero... Che ero... Allora... Cosa ride... E' deficiente... Oh... E' una menta... E' una cosa... E' una cosa... Eccoci... E' una cosa... E' una cosa... Cosa è vero, padre? Andiamo... Andiamo... Tesoro... Andiamo... No... Non le vanno al contrario... Scusami... Eh... Le scale vanno al contrario... No... 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 Marco... Devi essere velocissimo... Marco... Eh... Diretti... Un calciolato direttore... Arco veloce... Fermo! 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 Ehi... Fermo! Eh... Bottone poco li... Sarà per l'ascensore auto-co... Oh, non funziona ragazzi! No, non funziona, non funziona Voglio prendere il ritmo Ti spacchi le balle su... Ma devi premere il pulsante Ciao, padre! Tu puoi farlo! Una princesa! Non! Ok Grazie per visitare il profondo C'è un ingerior Cosa fatica Cosa fatica? Mamma mia che paura di cacchio Ma se vuole buttare? Allora, incontra Scarlett sulla vasca Tu sei una figlia disgraziata! Vattene! Altro che Ted Qui non glielo avrei tirato Marco, eh? Hai ragione, effettivamente Però non mi sembra caso di tornare indietro adesso Allora facciamo di nuovo Allora facciamo di nuovo Ehi, ehi, ehi Ehi, che ritmo, che ritmo ragazzi Si butta? Cosa fa? Buonasera Brrrr 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 Ma brutto scemo! Ma... Ehi c'è un porto di pantalone Ma che era un porto di pantalone? Ma che era un porto di pantalone? No... Dell'mi, Octopus What are you plotting? Quanti altri sono? Ehi, perché tutti fanno? Ehi... Hai un braccio Vabbè... Ma no, ma no! Ciao Octobus! Spero a dire la tua famiglia le buone notizie. Ebbè? Ma no, è triste adesso. Cazzo in finale questa. Stai fuori senza farti scoprire. Ma vedo dura, vedo l'umore che faccio. Ha fatto il Gear 2. Il Tanker. Ma sei nudo, è tutto imbarazzante adesso. Ah... Un piccolo Joe mi guarda quella extra 17 ore. Cerca di ritirarti su. È il Dead numero uno. Hey, dove va il mio coffe? Come passo? Puttigli la tazza, Marco. Che Dancers. A parte che hai inciolato la tazza. Cosa è? Soltanto bevi il caffè sotto la cazza. Era la tazza del migliore del mondo, però. Del papà nero. Hai inciolato la cazza. La cazza. La cazza. La cazza. Grazie al culo dei mochi. Hai inciolato la tazza? Hai inciolato la tazza? Hai inciolato la tazza? Hai inciolato la tazza? La cromica ti ha guardata. Stava a girarsi. E direi che te l'aveva incinata. Nooo. Non dovevi partire. Non mi vedono. Non mi vedono. Basta un attimo distogliere lo sguardo. Piano, piano. Adagio. Quello ti ha visto tantissimo. Guarda l'altro Marco. Basta andare veloce Marco. Veloce. E niente. Basta correre velocissimo Marco. Ti vedono ma non fanno in tempo a... ...capire. No. No. Eh Cortex. Grazie mille Cortex. Grazie. Grazie mille Cortex. Ma per me è che... Non importa. Ma basta con queste cazzo di maniglia. Che potere c'hai? Scusa. Ehi. Ma come è tutto? Ho giunto. Non vedete alcuni sali su questo progetto? Come salgo bene. Ok. 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 Un po' è buona buona cosa stessa. Cerca un po' travestimento. Mmmh? Ah! Eh... A questi me li metto. come li posso mettere? piano! altre banane, no! quante banane, scusate! un attimo non so, non so ho perso l'armadietto proprio ho sbagliato che ci fosse ok piano ma la chiave forse ho visto dove era eh si era nell'altro armadietto molla subito molla porca vacca perchè lui Raven non vuole buttarsi in acqua di essere il polpo normale un attimo, dorma buonasera buonasera guarda, dorma qui guarda subito eh guarda subito eh adesso si, che non ti riconoscerà più nessuno piccolo error cazzo giusto in tempo Marco, però eh allora andiamo di qui no dove devo andare? sala di comando è giù dove ho rotto prima, no? in teoria no, è quella no ah no, quella è la calza dove ero prima, giù cazzo a spawn grazie no, vai chiuso ah 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 un momento è troppo sessuale Marco eh mi fai passa... non mi fa passare non mi fa passare due giorni ah mi sa che devi salire no fastidioso ah devi pulire il ponte si, si, non si deve ma che casino tu bagno ma scosta, proviamo non mi fa passare ma scopo non mi fa passare ma che basta solo toccarlo adesso non mi fa passare eh 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 si, guarda non mi fa passare non mi fa passare ma scopo io ragazzi Mamma mia, ho fatto un goccio di pipì lì Ok Manche altro Ho fatto, c'è altro Ha tutto giustamente, anche di là mi sa Ehi! Ehi la, ehi! Un attimo Cargeria che volo Eccomi Faccio un pezzettino lì Ecco qua Come si alfa l'ancora? Come si alfa l'ancora? Si dice? Eh no Alfa la nave, si leva l'ancora Ma dov'è? Alfa l'ancora Sopra? No, magari ti fa passare il tizio adesso No, non mi fa passare No, sono proprio in metà lì da giù Parle Si sa la fa da qualche parte l'ancora, eccola Ma porca vacca ma allora ti si stremmo stavolta porca miseria ti ho detto un pezzo di merda vabbè basta su sta prendila capitano ecco togli questo lo buttiamo via, non serve dove la stai a comandi? di qua, di qua, ok, adesso mi fa abbassare ah ma c'è tutta la gran lore adesso per me sembrava anche un po' corta quella, quella, quella l'ancora riusciti a vedere fuori dal cuore puoi arrivare al helme e arrivare fuori dalla storia? ma ecco, adesso ho preso le sembianze questa è la gran lore per l'amore del cielo potremmo essere i miei occhi giocando tristico sono passato dentro un frigorifero per quello te lo puoi mettere in testa è proprio protesibile protesibile perdono ok ok il capitano è arrivato grazie 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 Ok. Ma qui hai i motori della banda. Quindi hai dall'Inghilterra a un... Ops, l'Inghilterra. Che trombone! Ma lei è mia moglie! Chi è quella donna? Ah, ecco perché non mi muovevo. Voglio andare a vedere chi è quella donna. È mia moglie, mia moglie. Come ci passi? Come esco? Dall'altra parte, forse. Dall'altra parte sono entrata, non si poteva passare. Però non mando per distruggere la cassa. Io direi con la bagaia. Una pistola. Ah, beh. Molento. La pistola, insomma. Perché non lasci la porta, grazie. Arrivi. Intanto è venuta rimasta la maniglia in mano. Ma che è successo, ragazzi? Ma dai! Ma scusa! Il timone, arrivo! Ma che è successo? Un attimo, sono incastrato! Vabbè, magari giri con la nave e cade tutta la cassa. Esatto, sicuramente quella. Guarda che ti ero arrampicato tantissimo, potrei benissimo passare. Eh, ma infatti! Eh, beh. Bro, guarda! Un attimo. Non si può prendere il passare per l'arrivo. Un attimo, il bravo. Un attimo, ok. Oh, va bene? Esatto! Qua? La bomba, scusate Ehm, Flair, forse Oh, il Capitano! Mi scusate per riuscire, per favore, non mi riuscirai a scuola Cosa cazzo ci fa lei qui adesso? Sì, ora siamo due in problemà Chi sei allora? Siamo davvero sulla stessa barca Siamo sicuro Cosa c'è? Ma il rottaccio suo Guarda che lo prendiamo nella testa Parla con lo chef, guarda Buonasera Sto muovendo per altri motivi La ballata del Capitano, ma certo Il Capitan Jack Questa è un po' Interessante Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Musica comparison Ma Ma non è vero Non ti sei anche se No Non era quello Sì, tu! Ma... chi sei tu, storia?! Aspetta, prima di farmi fuori, posso chiederti alcune domande sulla guerra? Ma appunto, effettivamente, tu sei capitato, ma che devi rispondere alla loro? Beh, lui ti deve rispondere alla loro opinione! Sì, voglio tornare a girare il timone, no? Vai cadere allo chef della banca, beh, non sa che quello è tutto. Faccio subito... Let me start, from the beginning. Perché sono le bintude, io devo andare a fare pipì! Quindi se puoi spaccare la merda... Perché non sa quanto manca la figlia, credo che sia la figlia, però... Amici! Aaaaaaah! Ma sicuramente, no, no, no! Porca dacca... Porca dacca... Porca dacca... Faccio veloce! Un pietro, un pietro! Porca dacca... Un pietro! Un pietro! Il pietro! Un pietro! Ok... Dove vai? Ma chi sarai? Adesso ci verrà qualcosa... No! La gente è vera! Mezz'ora? Ok! Mezz'ora per finirlo? Allora devo chiudere, ragazzi! Eh, in questo caso lo facciamo un'altra volta. Un'altra volta, magari facciamo metà questo e metto... Mi ha fatto veramente fuori sparato! Un minuto! E' un po' di Apex, la prossima volta. E' un po' di Apex, la prossima volta. E' un po' di Apex, la prossima volta. Ok, ok, quindi cosa per te, mistery man? Chi sei? Beh, un giorno mi darai una risposta. Quindi siamo così che ci siamo conosciuti. Nel senso... Ti preoccupare di una danza? Ma certamente che ti concedo un ballo. Gatto, perdona, ci arriviamo. Non ci stia seguendo in questo momento. Beh... Mi piaceva di più la mia di Dance, comunque. Ma stava notando il... Non ho mai avuto questi movimenti! O stava scorreggiando forte per spararsi via così? Ma che ne so io? Trammente corvo! Sono quasi emozionato io. Swiss Army Chef! Era un ricordo, un flashback. Ma fino ne andai anche all'inizio ne andai. Allora, amici. Carichiamo il checkpoint, vediamo. Dai, come si sono conosciuti. Ok, lo ricarica da qua. Perfetto, amici. Allora, noi vi mandiamo da gatto e gli dite Noi ci siamo conosciuti così. Esatto. E facciamo The Division, tra l'altro. E poi ci trovate lì anche da gatto, perché facciamo The Division. Esattamente. Quindi, buonanotte al pesce. A stanotte o domenica. Lo faremo domenica sera, The Division 2. Esatto, lo faremo domenica. E stanotte continuiamo Dark South. Esatto. Chi volesse passare dalla live. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì.